A mara sorpresa, l'immodellisè dal 1 ottobre potrebbe essere a pagamento. Quale modellisè sarà a pagamento? Quello successivo al primo modellisè. Perché? Perché il governo ha tolto i fondi ai CAF e ha detto, siccome non abbiamo abbastanza fondi per pagarvi, vi paghiamo solo il primo modellisè. Dal secondo, perché ci sono persone che necessitano di presentare un secondo modellisè, successivo al primo, pagatevelo. E quanto sarà l'ammontare del costo del modellisè? Fino al massimo di 25 euro. Allora, tanti mi diranno, io già l'ho pagato il primo modellisè. Il modellisè fino a prima del 1 ottobre 2023 doveva essere gratuito su tutto il territorio nazionale. Chi chiedeva del denaro per i modellisè compiva un illecito. Oggi, però, bisogna andare a chiedere dei soldi per i modelli isè successivi al primo, fino al massimo di 25 euro. Che questa non sia un inizio della privatizzazione anche di questo servizio? Quindi, diciamo, non mettiamo le mani in tasca agli italiani, però facciamoli pagare di più tutto quanto. Tu, cosa ne pensi? Stiamo nei commenti.